Quarto round dell'Euro Formula Open 2017 sul circuito dell'Ungaro Ring, siamo alle porte di Budapest, non si correva qui dal 2014, una qualifica dell'Euro Formula disposatasi sul bagnato ad emergere ovviamente le dall'Ara F312 del team Campos dopo aver dominato già nei test e nelle prove libere la compagine spagnola diretta da Adrian Campos è riuscita a portare a casa un 1-2-3 triplete dunque per i Valenziani, pole position al debutto per il sudafricano Raul Ayman che con la compagine iberica corre anche in GP3, secondo posto per Simo Laksson, il finlandese miglior rookie in graduatoria, terzo tempo per Thiago Vivacqua, pilota brasiliano sempre di casa Campos dunque Campos davanti a tutti, un dramma invece per il leader di campionato Harrison Scott, quattordicesimo tempo per lui dopo che la direzione gara li ha cancellato la pole provvisoria per Track Limits gara entusiasmante che rischia di riaprire dunque le sorti della stagione 2017 della serie monoposto prodotta da GP Sport di San Antonio 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 Grazie.